L'idratazione è fondamentale per qualsiasi maratona, per qualsiasi sport, soprattutto in previsione dei mondiali di Doha, dove ci sarà una temperatura elevata. Prenderò GoHydro, che è un integratore di sali minerali e sarà necessario prenderlo regolarmente per evitare disidratazione durante e poi anche per il post-gara. In più la maratona di Doha sarà una maratona molto particolare perché si correrà a mezzanotte con molto caldo. Non penso che ci sia possibilità di un grande crono, quindi chissà, magari tra Doha e le Olimpiadi riuscirò a fare una maratona veloce come sono riuscita a fare l'anno scorso. Perché no, se la forma me lo permetterà vorrei provare a battere il record italiano. Grazie a tutti!